Sono 10.000 le imprese e 29.000 le abitazioni che hanno subito danni dal maltempo dello scorso 2 novembre, secondo le stime di IRPET. Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha presentato i contenuti della relazione che dopo un mese dalla sua nomina a commissario per l'emergenza dovrà inviare al governo per ottenere i ristori per la popolazione e per le imprese alluvionate e le risorse a copertura dei 110 milioni di euro di somme urgenze già realizzate dai comuni colpiti per la messa in sicurezza dei luoghi. A questi 39.000 e più immobili che hanno subito danni, noi dobbiamo considerare 160 immobili pubblici, palazzi comunali, centri civici e a fronte di tutto questo un danno complessivo stimato di più di 2 miliardi. 1 miliardo e 9 sono le imprese e le residenze e contemporaneamente 110 milioni sono le somme urgenze per quei lavori di emergenza che prima ha evidenziato. Quindi complessivamente questo è quanto necessita. Qualcuno ha identificato la relazione come il modo per ottenere dal governo. Il governo può dare in ogni momento, la relazione è un atto totalmente svincolato da quello che deve arrivare. Finora è arrivato 5 milioni che naturalmente sono prontamente impiegati in quei 110 milioni di somme urgenze che abbiamo fatto. Ci è preannunciato dal direttore Curcio che nell'arco dei prossimi 15 giorni quella prima cifra di 5 milioni sarà integrata da, quanto non sappiamo, risorse sufficienti per mettersi in sicurezza. La regione toscana ha erogato effettivamente 65 milioni di euro che corrispondono a 15 milioni per contributi diretti da parte della regione alle famiglie sulla base di una legge e di un impegno che nasce dal piano finanziario che andiamo a provare con il bilancio il 19 di dicembre. Quindi da metà di gennaio possiamo incominciare ragionimovamente a pensare che possano arrivare le risorse alle famiglie. Mentre invece dall'ordinanza del governo noi ci aspettiamo quelle risorse che a questo punto penso possano arrivare verso marzo per dare 5 mila euro alle famiglie e 20 mila euro alle imprese che corrispondano ai requisiti dell'ordinanza.